salve ragazzi benvenuti a un nuovo tutorial per parlare degli C e in particolare dei trade finora abbiamo visto dei trade classici che comunque avevano dei problemi per quanto riguarda la portabilità cioè non in tutti i sistemi operativi potevano funzionare. Esiste uno standard chiamato POSIX cioè Portable Operating System Interface for Computing Environment che è un insieme di standard che ci fornisce delle interfacce, delle API per gestire i nostri trade su qualsiasi sistema. Questi trade vengono chiamati POSIX e sono chiamati P-Trade. Sono indipendenti dal linguaggio di programmazione anche se solitamente sono realizzati in C. Andiamo a vedere come vengono gestiti i P-Trade all'interno di Linux. Scriverò il mio programma con Block Notice e cominciamo col definire le nostre librerie. Conoscete STDI, ISTD Lib, UNI STD, quella che non conoscete è la libreria P-Trade.h che mi permette appunto di gestire i P-Trade. Creeremo due trade che ci visualizzano uno magari un conto semplice ottenuto con un ciclofor e uno che ci visualizza delle lettere per distinguerle l'uno dall'altra. Quindi cominciamo con il primo P-Trade, lo chiameremo VOID CONTO e avrà come argomento un VOID Asterisco ARG. All'interno di questo nostro P-Trade noi andremo semplicemente a farci visualizzare il PID e a contare da 1 a 5. quindi printf sono il P-Trade per 100 ld slash n virgola il PID del P-Trade viene visualizzato, viene acquisito con la funzione P-Trade self. Dopodiché creiamo un for int i che va da 0, che magari lo facciamo arrivare a 5 e che si incrementa di 1. li faremo semplicemente stampare e conto per 100 d slash n virgola e li faremo visualizzare il nostro contatore. per poter chiudere il nostro trade è importante uscire con P-Trade exit null e la nostra prima funzione, cioè il nostro primo trade lo abbiamo creato. andiamo a creare il secondo, uno copia e incolla questo lo chiamo magari conto 1 questo non cambia e qui invece faremo stampare delle semplici lettere e dico A poi li facciamo dire B e li facciamo dire C anche questo anche questo trade deve uscire con P-Trade exit andiamo adesso al nostro main int main e dichiariamo due variabili per contenere il PID praticamente dei nostri trade solo che nel caso dei P-Trade si chiameranno P-Trade T e lo chiamerò P-Trade 1 e P-Trade 2 vado a creare il primo trade con P-Trade create aperta parentesi il P-Trade create accetta quattro parametri il primo parametro sarà il nome ed è P-Trade T di riferimento passato per indirizzo quindi metteremo ampersand trade 1 che è questo nome qui il secondo parametro solitamente è null e sta ad indicare il modo con cui devono essere effettuate le fork e le join quando si specifica null vuol dire che vengono effettuate normalmente senza degli attributi particolari il secondo parametro indica il nome della funzione che il thread deve eseguire il primo sarà conto virgola il terzo parametro è un valore che eventualmente deve essere restituito restituito dal P-Trade in questo caso la nostra funzione non restituisce nessun valore per cui metteremo null vado a creare allo stesso modo il secondo trade questo sarà 2 e la nostra funzione sarà conto 1 vengono così lanciati i miei thread e per poter uscire dal main anche qui devo fare P-Trade Exit questa volta metterò 0 molto semplice quindi ricapitolando ho inserito la libreria per il P-Trade ho creato due funzioni la prima che mi visualizza il P-Trade del thread che lo richiama la E conta fino a 5 la seconda invece mi visualizza delle lettere vado a salvare lo salvo e lo chiamerò primo P-Trade punto C vado a compilare GCC primo P-Trade punto C meno O-P-Trade e per compilare primo P-Trade e per compilare un programma che all'interno tratta i thread bisogna aggiungere meno LP-Trade il programma è corretto lo lanciamo primo P-Trade ecco qui ora come vedete il numero del PID in effetti è molto lungo e non è riscontrabile all'interno di PS-U come siamo stati abituati a fare e questa volta è stato eseguito per primo il secondo Trade anche adesso riproviamo può essere che per qualche volta potrebbe cambiare no? è sempre uguale desideravo farvi vedere però una cosa voglio aggiungere uno slip di 1000 magari eccessivo sia qui che qui e non faccio uscire il P-Trade salvo vado a ricompilare e lancio il mio programma guardate ho prodotto un defunto cioè il mio thread è ancora in esecuzione e come vedete il padre è uscito e lo ha lasciato quindi è orfano in questo caso vado a bloccare la sua esecuzione e come vedete è uscito quindi ricapitolando ho inserito la libreria P-Trade è importante tolgo questo slip a questo punto e lascio l'exit perché il thread deve finire con exit ho creato due funzioni che verranno richiamate dai due thread p-trade punto t è la variabile di questo tipo che mi identifica i due thread li ho chiamati in questo modo per creare un p-trade basta scrivere p-trade create viene passato per indirizzo il p-trade t il secondo parametro sarà null perché per default le operazioni di fork e di join void perché sono dei void le nostre funzioni la prima si chiamava conto la seconda vedete conto 1 e nullo perché i due thread non restituiscono nessun parametro spero di essere stata chiara ci vediamo al prossimo tutorial per continuare a parlare dei p-trade p-trade a parlare p-trade p-trade p-trade